Ti ho detto che no, si è fermato vicino a me, avevo una Vespa, è passato uno sguardo, dove ti ha portato? D'appertutto. Viene a scoprire il divertimento e la libertà in comfort Italia di uno scooter Vespa e non perdere la nuova esposizione Vespa Dance Import a Middleton. Vespa, la nuova versione di un classico.